Alla fine ce l'hanno fatta, dopo un primo no del sindaco di Cassano, dopo il secondo no del sindaco di un altro paesello dell'Inter, Lando Lombardo, l'ealtazione sta tenendo regolarmente la sua festa del sole. A nulla è servita, come già negli anni passati, la mobilitazione di ampi e antifascisteria varia, ben supportata da Berizzi di Repubblica, che su queste cose ormai è diventato uno specialista assoluto. La location è stata trovata in un parco pubblico, non so qual è il posto, ma è una struttura abbastanza ampia, gli eventi si stanno svolgendo regolarmente con la solida partecipazione in utilità, perché oramai l'ealtazione è una struttura solida che ha preso e ha messo radici anche fuori dalla Lombardia, Firenze, in Abruzzo e in qualche punto anche del sud. Una considerazione però va data di carattere generale. Il diritto di manifestazione è un principio per me più importante delle disposizioni provvisorie della Costituzione. Continuare a pretendere di negare il diritto di espressione ai fascisti dal mio punto di vista resta profondamente sbagliato. Ed è tutto.